Allora questa sera abbiamo inaugurato, ho fatto questa presentazione nella segreteria di Vibo Valencia della mia candidatura, è una bella ricorrenza, una festa, è un momento di confronto con tanti amici, sono veramente tanti e numerosi, li ringrazio tutti, abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere qui con noi Maddalena Basile che è la vice coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia e la coordinatrice regionale Vandaferro, oltre anche alla candidata Rosina Mercurio di Lamezia. Abbiamo avuto un confronto sulle principali tematiche che ci stanno attanagliando in questa campagna elettorale molto complessa e che ci vede impegnati in un territorio veramente molto vasto di questo collegio Calabria Centro che rappresenta 157 comuni. I contenuti sono importanti, le cose da fare sono tantissime, l'impegno di Fratelli d'Italia e dei candidati, il mio personale è un impegno per cercare di portare l'attenzione della gente e dei nostri concittadini, la nostra voglia di fare politica e la nostra voglia di offrire il nostro impegno e la nostra professionalità per cercare di risolvere i problemi che attanagliano questa regione che sono tantissimi. Si possono fare delle cose, abbiamo davanti a noi una legislatura importantissima con la maggiore dotazione finanziaria che la regione Calabria abbia mai avuto e quindi abbiamo anche una responsabilità enorme. Fratelli d'Italia avrà certamente un bel risultato e è importante che questo risultato venga messo a frutto e venga messo a disposizione della regione e dei cittadini calabresi. Grazie. Grazie